Reduce da una sconfitta esterna, il paterno cerca di riprendere la retta via fra le mura amiche per tenere a distanza di sicurezza brutti pensieri da colonna destra della classifica. Chi invece i pensieri li ha belli e ambiziosi è l'Alba Adriatica, che però in settimana è stata battuta fuori dal campo da un giudice sportivo che non ha potuto fare altro che privarla di tre punti buoni come il pane, ma leggeri come il vento che li ha portati a penne. C'è quindi la voglia di rifarsi, un paradosso dopo una vittoria per 5-0, ma tant'è e bisogna fare necessità virtù. E poi i padroni di casa sono privi di quasi tutta la difesa titolare e la circostanza si noterà presto. Intanto, al primo, un taglio illuminato libera Mastroianni, solo di fronte all'estremo ospite, miracolato da una traiettoria troppo tenera per essere letale. Ribaltamento di fronte, capocasa dalla distanza pesca l'Eurogoal che indirizza un match che si rivelerà ricco di insidie per i padroni di casa. Paterno che accusa il colpo ma riparte dopo pochi minuti e trova al decimo una rete che riequilibra le sorti dell'incontro con Di Virgilio ficcante e ancora Mastroianni al posto giusto nel momento giusto ma questa volta anche freddo e definitivo al tapin. Uno a uno è partita e un po' scade di contenuti per proporre nuovi spunti solo al 26esimo quando gli abboni è approssimativo e quasi non ha prevarchi inusitati a Miani anticipato di centimetri. Ancora Miani protagonista al 37esimo quando da posizione lievemente decentrata calcia di poco alto rispetto alla porta difesa da Di Girolamo. Chiusura di tempo ricca di spunti e di veleno al comunale capistrellano dove prima di Virgilio pesca Mastroianni lievemente impreciso in fase di realizzazione e poi in Giambè al 46esimo finalizza una percussione ospite che mostra tutta la potenza dell'artiglieria al Benze nel breve lasso di pochi secondi. Tè bollente negli spogliatoi amaro per i padroni di casa che cercano zucchero in apertura di ripresa quando scippolo prima pennella su tiro d'angolo per la testa imprecisa di tabacco. Poi si mette improprio al decimo e approfittando anche di una probabile deviazione ospite deposita in fondo al sacco la rete del pari che sembra riaprire i discorsi da tre punti in casa nera azzurra. Solo che l'Alba è sempre vigile e tiene il campo da par suo rischiando solamente al 24esimo quando Mastroianni si gira in bello stile e chiama Pedrini alla puntuale risposta in angolo. Pareggio ormai scritto e sembra proprio di sì e invece all'ultima azione i Rosso Verdi passano in rapina con Capo Casa e Corona prestazione perfetta anticipando di testa un'intera difesa per un 3 a 2 tanto definitivo quanto indigesto per i ragazzi di un Torti a fine match davvero amareggiato. Dopo partita con Capo Casa match winner dell'incontro allora grande prestazione la vostra grandissima prestazione la tua. Sì, prestazione da esaltare quella dei miei compagni e mia perché comunque venivamo qui in un campo difficile con anche il meteo, noi siamo abituati ad altre temperature quindi abbiamo fatto un po' fatica magari ad ingranare ma poi siamo venuti fuori come ormai da tutto il campionato ma a parte la prima partita abbiamo fatto sempre grosse prestazioni e oggi è stata un'ulteriore conferma del lavoro che stiamo facendo. Mi sta torto, è stata una partita schizzoide? No, è stata una partita schizzoide, prendere gol alla fine dove penso che il risultato di varietà sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto in campo non abbiamo avuto tante situazioni per poter fare gol, poi abbiamo preso un gol, il primo gol su una palla in uscita, ripartenza, un errore nostro, il secondo uguale al primo minuto del RQ al quarantasesimo, poi me l'abbiamo recuperato, abbiamo avuto anche qualche altra situazione pericolosa, il tiro di Marso Gianni che il portiere ha lavorato sotto il set e poi prendere un gol in questa maniera qua alla fine insomma è da dispiacere però il calcio è fatto di queste cose, non è che dobbiamo, evidentemente dobbiamo lavorare di più. Mister, ovviamente le assenze in fase difensiva condizionano parecchio. È ovvio, i giocatori del Calvio, di Fabio, di Stefano, è ovvio che quando poi adatti i giocatori perché non li hai, perché poi per carità bisogna pure ringraziarli per quello che fanno, è ovvio, far giocare i giocatori nei ruoli che possono dare tanto non è come la stessa cosa, metterli in un ruolo dove si deve adattare, noi abbiamo queste assenze importantissime, sono quattro giocatori che per noi sono importanti però questo non deve essere adesso una giustificazione anche se ci sono, noi dobbiamo andare avanti perché finché non li recuperiamo dobbiamo fare delle necessità a virtù per cui dispiace perché ripeto la squadra avrebbe meritato di pareggiare, insomma il risultato era quello.